Oh, qualcuno ha detto stampante 3D? Qualcuno ha detto stampante a Delta? Da quanto tempo non vi portavo una stampante a Delta? Beh, in realtà l'unica che vi ho portato è stata la Anycubic Predator 600€ di mostro gigantesco di stampante Era bella potente, era bella interessante Sapete che è rimasta qua a farmi da sfondo per i video per parecchi mesi Ma c'è una Delta che spessissimo mi chiedete Che so che apprezzate tantissimo Perché ogni volta che la pubblico sul canale Telegram di offerte Mi commentate, ah la FL Sun Q5, cose varie Ebbene oggi siamo qui a parlare della FL Sun Q5 Costati speciali, a parte che costa pochissimo Ma che è molto molto veloce 200€ di stampante, super accessibile come costo Silenziosa perché ha i TMC 2208, dovrebbero essere, adesso controllerò E molto molto veloce perché riesce a stampare a 120mm al secondo Che è tanto, è tanto tanto Volume di stampa comunque interessante Ovviamente essendo una Delta è un cilindro Il volume di stampa e non un parallelepipedo È un cilindro con base di diametro 200mm Quindi 20cm di diametro Per 20cm di altezza, molto semplice Ragazzi montiamola È una vita che non monta una stampante Delta È una vita che non possiede una stampante Delta Mi sa che me la terrò per un po' Giusto perché è bella A parte che è così gialla, è proprio carina Tiriamo fuori dalla scatola i tre assi verticali Sapete che le stampanti Delta tra l'altro sono molto molto potenti Per fare qualsiasi cosa abbia delle forme curviline Perché la precisione è maggiore Abbiamo un cavo con presa cino-americana-australiana Non ho idea Ah no, deve essere inglese Sono quelle che hanno il fusibile dentro Se vi capitano delle prese inglesi e dovete buttarle via Perché tanto non sapete cosa farvene Prima recuperatevi il fusibile C'è un fusibile gratis dentro E l'altra è quella asciuco europea Invece che useremo Manuale un po' strano Apprezzato Abbiamo un cavone USB Era un po' che non ne vedevo uno di serio Di solito ti danno sempre quello blu in terciato lungo 20 cm Invece questo qua è un bel cavone USB Piuttosto lungo Deveva essere due metri A occhio un metro e mezzo Poi qua sotto troviamo il tetto Deve essere Oh yes Con il motore dell'estrusore qui L'alimentatore qui sopra Figo Sai che potrebbe non aver ventole questo alimentatore? Grosso com'è? Maker base MKS Ragazzi non ci credo Non dirmi che è una MKS come... Potrebbe avere una scheda madre riprogrammabile Compatibile con tutti i firmware che volete metterci E le cose varie Se sì Questa stampante è una figata Comunque questo qua è il lato che dovrete spolverare Insomma è il tetto della stampante Poi pezzettini È la mia prima stampante FL Sun Quindi prendo un attimo anche per apprezzare Come è fatta la confezione Ok questa qua è la testa di stampa Con il nozzle Un supporto magnetico Non so cosa serve Una bocchetta metallica Che figata che la bocchetta sia metallica Bowden ovviamente Essendo una stampante Delta Uh ma abbiamo l'autocalibre Abbiamo la calibrazione automatica del piatto Tanta roba Perché a maggior ragione Essendo una Delta La calibrazione è sempre una gran rottura di balle Quindi se se la fa in automatico La stampante Noi premiamo un tasto E quella fa tutta da sola Abbiamo già vinto I braccetti di carbonio Per quanto riguarda le altezze Il supporto per la bobina di filamento Una paletta E qua sotto troviamo Uh ok Carino Guarda come è il piattino Tondo Figo 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 mi piace E anche del filamento Omaggio che tanto butteremo via Perché non credo nella qualità Dei filamenti regalati Da nessun brand di stampa 3D Tranne la snap maker Il filamento della snap maker L'ho usato sia perché mi hanno rendato un chilo Quindi era peccato buttar via un chilo intero Sia perché erano 2000 euro di stampante E quindi spero ben che ci diano un qualcosa di decente Ok allora questa qua è la base Più di qualcuno vedo chiedersi Su Instagram ad esempio Che me lo chiedete A cosa serve quello spillone Che viene dato in dotazione con le stampanti 3D Serve a pulire il nozzle In caso vissi o turi l'ugello della stampante Cosa si fa? Si prende da sotto con lo spillone Ovviamente ha noso il caldo E si spinge da sotto ripulendolo La parte terminale di molla è semplicemente per prenderlo con le mani Senza farsi male e senza scivolare Bello Un solo tipo di viti Tutti uguali Se le versiamo tutte qua E cominciamo l'assemblaggio Ah Assemblaggio però che si inizia non dalla base Ma dal tetto Display verso di me Estrusore verso la mia sinistra Allora l'asse Y deve essere quello che sta alla mia sinistra Ah ma c'è pure scritto Fantastico abbiamo le etichette Ok Quindi cavo nero con cavo nero Cavo bianco con cavo bianco Poi si butta il tutto per dentro E si ripete il procedimento con gli altri 3 Anzi prima mi avvito almeno una vite Perché sennò cade Triplico le viti su ciascuna Guardate che figata I fine corsa Sono i classici pulsantini Però hanno questa capochetta rossa Semicerchio Proprio belli E devono essere anche precisi eh Da come cliccano Allora comunque io ho fatto il mio dovere Qua di sotto E quindi facciamo il dovere anche di sopra Immagino che la scritta FL Sun sul piatto Vada dal lato del display No preferisco montarla tutto in su Prendo questa La appoggio sopra E se i bracetti penetrano nella loro fessura Già è una struttura resistente Che bella Mi mancavano le stampanti delta Peccato che queste viti sono un po' corte Quindi si fa fatica a mettere le dritte per farle abboccare nella filettatura Poi il coso qua si attacca qua di sopra Lo troviamo già dal lato giusto E i connettori hanno il colore giusto e la forma giusta Quindi è super facile Non potete sbagliare Qui ci sono mille connettori Ma perché c'è la testa di stampa che va messa Opla Dovrebbero essere sei braccini Con già la vite integrata Fantastico Ah ma voi non stavate vedendo bene? Non tutta la stampante almeno Nessuno che mi abbia avvertito nei commenti Brugoliamo in allegria Trincete pure le viti Tanto i braccetti sono liberi di muoversi in ogni caso Al che si prende la testa Da che lato vogliamo girarla? A un lato? A un verso? Sì Il lato dove si vede spuntare l'elemento riscaldante Qua come pallino È un pallino di acciaio diciamo Questo deve essere dal lato del display della stampante In questa maniera Opla Apprezzatissimo il fatto che abbiano messo il freno a filetti Sulle viti E dovremmo in questa maniera Aver tolto tutti i gradi di libertà di rotazione sugli assi E promettere alla testa di stampa Solo di traslare Sulle tre direzioni Ragazzi abbiamo con successo montato una stampante a delta Bowden qua sopra Nell'estrusore Cavetti Sono un sacco ma sono colorati Quindi rosso nel rosso Giallo nel giallo Nero nel nero Bianco nel bianco E ce ne avanza uno per il sensore di autolevel Che monteremo solo la prima volta ovviamente Per fare la calibrazione automatica Cosa che si può fare però solo dopo aver Spellicolato il piatto Uuuuh E trovo una piacevolissima sorpresa sotto la pellicola del piatto Trovo un materiale fatto bene Come quello delle Creality Come quello delle Flying Bear Come quello che Artiglieri dovrebbe imparare a mettere nelle sue stampanti Ragazzi qui non avremo problemi di aderenza al piatto Ah vabbè mancherebbe il reggi filamento Ovviamente Vabbè dopo me lo monto io Off camera Chi se ne frega Ok eccoci qua Cavo di alimentazione Accendi Bello Bella l'interfaccia Bene Lei intanto si prediscalda per il PLA Noi cosa dobbiamo fare Penso che dobbiamo prendere il nostro autolevel Connetto il sensore in questa maniera E poi lo attacco Con la calamita qua Molto molto bene Al che vado su tool Autolevel E poi di nuovo autolevel Vai Yeee È bellissimo vedere una delta che si muove E lei adesso si autolivella A tipo 26 punti Ne prende un botto Mi fa un primo triangolo Dopo un altro triangolo Vabbè fa tutto da sola in pratica Cioè guarda qua Ah fa la misurazione due volte Vabbè lasciamola fare Lo so che l'autolevel ormai ce l'hanno molte stampanti Ma non a 180 euro Perché vi ricordo che il prezzo di questa qua è fuori dal mondo È bassissimo Quindi autolevel non si trova a 180 euro In questa fascia di prezzo di buona c'è la artiglia di Hornet Ma non all'autolevel E poi comunque vedere una delta che si muove è troppo bello Ah ma sta prendendo punti diversi ogni volta Figo ha finito Ok E poi lampeggia il secondo pulsante Perché prima lampeggiava il primo Cioè proprio mi dice quello che devo fare Fantastico Togliamo mi raccomando Togliete il sensore Perché se no fate danni Adesso prendiamo un bel foglio A4 Lo appoggiamo sul piatto E premiamo il secondo pulsante Muovi la Z fino all'asse 0 Dice per favore ricordati di togliere il coso Sì ok l'ho tolto Premiamo il terzo pulsante Che è regola all'asse Z E dobbiamo regolarla come una stampante normale Quindi in modo da sentire un po' di attrito sul foglio Ma che non sia bloccato Solo che lo facciamo in maniera digitale Premo meno Lui scende Ok così ho il foglio bloccato Premo più Lui sale Ecco così lo sento grattare ma non me lo blocca Salva Bene Siamo pronti per stampare E questa volta il timelapse sarà particolarmente bello Essendo una delta Let's go No allora Fermi Potremmo aver trovato la nuova Ender 3 Che bomba di stampante Allora tra un attimo vi racconto tutto Perché c'è veramente molto di più Di quello che a prima vista si vede E potrebbe veramente essere La stampante go to Per i vostri regali di Natale Ma prima Lasciate che vi dica due parole Sullo sponsor di questo video Sponsor che probabilmente già conoscete Perché è Cabit Ve ne ho parlato spesso di recente Negli ultimi video Perché credono veramente nel canale Ed è grazie ad aziende come Cabit Che il canale può andare avanti Che può supportarvi contenuti Sempre gradualmente più interessanti E visto però che spesso vi ho parlato Del loro prodotto Non so se vi ho mai detto però A parte il video che avevo fatto Che effettivamente Cabit sono Una startup italiana Che è partita dal nulla Da tipo il garage Dello zio Del fondatore Non so se il garage o quale stanza Comunque è molta la Steve Jobs Poi hanno lanciato il prodotto su Indiegogo Sono stati finanziati per più di un milione di euro Su Indiegogo Perché il progetto è piaciuto particolarmente E vedete cosa vuol dire Fare un prodotto di successo Un prodotto che è quel coso nero A forma di alveare A forma di esagono Che già vi ho mostrato E che è il vostro cloud Essenzialmente Anche se i vostri file non risiedono lì Ma sono distribuiti Ridondanti e tutte cose Essenzialmente tu acquisti Quel pezzo di hardware E hai i tuoi file in cloud Perché comunque sono in cloud Accessibili ovunque Condivisibili con gli amici Con il link Come alternative di marchi più noti Quali sono Google Drive O Dropbox Però a differenza di Google Drive O Dropbox Non paghi in abbonamento Perché tu hai comprato quell'hardware Quindi paghi una volta E dopo quello spazio È tuo per sempre Quindi nel tempo Tranquillamente te lo ripaghi Fate conto di quanto vi costa L'abbonamento Di Dropbox iCloud O Google Drive Su tipo 3 anni E come i concorrenti È veramente semplice Cioè tu prendi Arrivi Connetti alla corrente E a internet Il tuo esagono nero La tua cella di alveare Cabit E hai il tuo store Già il tuo spazio Link in descrizione Al sito di Cabit Che ringraziamo ancora una volta Per supportare il canale Dateci un'occhiata Perché è un'azienda interessante Che fa un prodotto Molto interessante Ma per tornare Alla nostra stampante Ragazzi Cominciamo dall'aderenza al piatto Avevo calibrato male il nozzle E ho dovuto ricalibrarlo Cioè proprio l'altezza della 6Z E praticamente la prima volta Mi si è messa a stampare A mezzo centimetro di altezza Dal piatto Ci credete che il filamento Anche buttato da mezzo centimetro di altezza Adderiva perfettamente al piatto? Cioè Perfettamente no Però comunque Quando il nozzle faceva le curve Il filamento bene o male Manteneva quell'angolo retto della curva Che è assurdo Quindi aderenza top Quando serve Cioè quando il piatto è caldo E Vi giuro non l'ho toccato L'oggetto stampato qua Quando il piatto è freddo Ragazzi È solo appoggiato Cioè Si è staccato da solo Vedi Quando il piatto è freddo Le cose si staccano Senza sforzo Quando il piatto è caldo Le cose aderiscono Senza rotture di balle Questo è come devono essere I piatti di tutte le stampanti 3D Certo vanno mantenuti anche Infatti qui ho un piccolo foglietto Sulla manutenzione Ti dice Ogni due settimane Dacci una pulita Con scotex e alcol Io personalmente aggiungerei Di lasciarci un panno Un cartone Un qualcosa Sopra Quando non usate la stampante Giusto perché non si riempa di polvere Ma qua siamo proprio Nel buon senso Però un piatto del genere Ti dà soddisfazione A stampare in 3D Perché tu premi La stampante stampa Non devi pensarci Non devi starci dietro E spruzzo la lacca E più caldo E più freddo Artiglieri Quando cominceranno a fare piatti Decenti artiglieri Bene Abbiamo detto che il piatto È molto figo Menzione speciale È il fatto che Chiunque abbia sviluppato Il modello per FL Sun Q5 Su Cura Che è il software Che si usa per preparare i pezzi Da stampare in 3D Di solito le stampanti Di terze parti Sono tutte fatte Da membri della community E dopo adottate In maniera ufficiale Da cura Come il modello Della stampante Solo che ad esempio Per molte stampanti Visto che sono Modelli Di mezzi sviluppati Dalla community E cose varie Manca addirittura La riga di spurgo Del filamento Che alcune stampanti fanno Altre no In base a come è stato sviluppato Il modello Qua addirittura La fa curva Vedete che fa la linea di spurgo Su un lato del piatto In maniera curva Guardate come è venuta via Guarda come è venuta via Questo piatto è fantastico Vuol dire che c'è stata Veramente tanta attenzione Da parte di chi ha sviluppato Il modello Anche a dettagli Come la linea di spurgo Farla curva Farla fuori dalle balle Figo Stampante molto silenziosa Cosa poteva farvi meglio Ecco parliamo subito Di un piccolo difetto I tre driver Dei tre motori Per il movimento degli assi Sono tutti e tre TMC 2208 Originali tra l'altro Made in Germany Sono tipo 7 euro l'uno Quei driver Che possono non sembrare tanti Però per un produttore Di una stampante Avere tre pezzettini Piccoli di elettronica Che costano 21 euro Solo per tre cazzatine Comunque gli aumenta molto I costi di produzione Ma nonostante questo La stampante viene venduta A 173 Quindi ottimo lavoro Qui stiamo parlando Di componenti Veramente di qualità Purtroppo non è di qualità Il driver Del estrusore Il motore dell'estrusore Ha un 4413 Non so Un driver Di riprap Sfigato E infatti L'estrusore fa rumore Sono silenziosi I motori dei tre assi Ma l'estrusore fa rumore Si stende dopo a fischiare Quando tira avanti Indietro il filamento Ma La cosa comoda È che i driver Hanno la basetta Plug and play Quindi puoi semplicemente Aprire Staccare un driver Attaccare l'altro Devi cambiare il firmware Ovviamente della stampante Però comunque Il driver È facilmente sostituibile Sono sicuro di avere Da qualche parte In una scatola Un TMC 2208 Quindi presto lo monterò Però Vabbè Cioè È l'estrusore Che fa un po' di rumore Cioè Sono cose ovviamente Sorvolabili Solo che se non vi dico Lati negativi Delle stampanti Voi ogni volta Ah ma chi ti paga Parliamo della scheda madre Che è una Maker base MKS Robin Nano Quindi scheda madre È abbastanza open source Abbastanza compatibile Con firmware Vi dico già È compatibile Sia con Marlin Che in teoria Dovrebbe essere quello Che già ha su Oppure si installa Marlin Vabbè Comunque è compatibile con Marlin Ma addirittura con Clipper Ho visto delle implementazioni Del nuovo firmware Molto figo Che si chiama Clipper Con la K Su Reddit Apposta per questa stampante E quindi se sostituite Quel famoso driver Dell'estrusore Ad esempio Spendete 5 euro Ci mettete un driver Un po' più silenzioso Potete tranquillamente Fare l'aggiornamento firmware E impostarle In modo che abbia Anche il quarto driver Più figo Lodevole il fatto Che tutte le viti Che abbiamo usato Per montarla Fossero esattamente identiche Esattamente la stessa vite Lodevole il fatto Che ci abbiano messo Il freno a filetti Sulle viti Qua dei bracetti È fatta veramente bene In ogni suo particolare È fatta veramente Tanta roba L'alimentatore Come avevo visto È fanless Cioè senza ventola Quindi non fa rumore in sé Invece due ventole Che ho trovato Abbastanza rumorose Ma anche lì Con 4 euro Le sostituisci Se proprio Ti dà fastidio Se no vanno benissimo Anche quelle che ci sono Sono la ventola qua Che comunque È a 12 volt Quindi prendi una Noctua 40 mm 12 volt Ce la metti E diventa super silenziosa E super di qualità E una ventola Che c'è qua dentro Che è quella Per raffrescare L'elettronica Non ho ben capito Da che lato sia Comunque c'è una ventola Dovrebbe essere una 60 mm 70 Qualcosa del genere Un po' più grande Forse anche 80 Non lo so Vabbè comunque C'è una ventola Che è alta più o meno Come tutto il coso qua Che è un po' più rumorosa La stampante in sé È abbastanza silenziosa Non è silenziosa A livello di una Artigliere Genius Non è silenziosa A livello di una Feinbar Ghost Ma solo per queste due Cazzatine Le due ventoline E il driver dell'estrusore Che a farla grossa Con 12 euro Ti sostituisci E c'è una stampante Che ti dura tutta la vita Ragazzi Cioè Da quant'è che non mi vedete Così entusiasta Per una stampante Adesso Io mi metto a calcolare Con calma qua Il punteggio Di Autodesk Metto già le mani avanti Però che Qualsiasi sia il punteggio Che esce Secondo me Questa stampante Da 0 A Artigliere Genius Quindi Diciamo Nella fascia Tra 0 euro E 300 euro 320 Vuoi che è No Non è vero La Genius costa un po' meno In realtà Costa 280 La Genius Pro Vabbè Comunque Da 0 a Genius Secondo me Lei vince Non comprate la Ender 3 Vecchia ormai È troppo vecchia Non ha senso Comprare una Ender 3 A meno che Non vi servano Proprio quei 20 euro Di differenza Non comprate assolutamente La Ender 3 Pro E la Ender 3 V2 Non valgo Il rapporto qualità prezzo Della Ender 3 Pro E della Ender 3 V2 È sottoterra Rispetto già Alla Ender 3 Ma anche rispetto a questa La Artiglieri Hornet Ci sta Vi darà sicuramente Qualche grattacapo In più Come aderenza al piatto Rispetto a questa Quella che trovate in sconto Secondo me Tra la Hornet E questa Può essere la vostra stampante Che vi regalate per Natale A me questa qua Piace tanto A me questa qua Piace più della Hornet Se devo essere sincero Diciamo l'ultima cosa Perché sono sicuro Me l'avrete già scritto Nei commenti Eh ma c'ha il piatto piccolo Il piatto è tondo Quindi puoi stampare Pezzi piccoli Ne parliamo Dopo che ho calcolato Il punteggio Punteggio Come faccio a dirvelo Complici anche I quattro Pioli Rimossi Non ha fatto Benissimissimo Sull'overhang Ma La sezzetta Era perfetto Niente Ringing Cose varie Ragazzi 19 punti e mezzo Ha fatto un punto in più Della Artiglieri Hornet E mi ha fatto lo stesso punteggio Della Flying Bear Ghost 5 Che costa Tipo il doppio Ma me lo aspettavo Ma l'avevo visto subito So che volete Che io vi parli del piatto È piccolo questo piatto? No Secondo me no Lo so che 20 cm di diametro Non sono il piattone Della Artiglieri Sidewinder Ragazzi Non vi serve Un piatto grande Vi giuro Non vi serve Io comunque Stampo parecchio in 3D Quello che sto costruendo In questo periodo Ad esempio Per chi magari non mi segue Su Instagram Ve lo mostro qua Sono le periferiche Per simulatori di volo Interamente stampate in 3D Questo qua È la parte del volantino Sarà lo scorrimento lineare E la rotazione del volantino Quindi c'è tutto questo pezzo Con le rotaie Tutto quanto In più C'è il volantino stesso Lo yoke Guardate che figata Con tutti i pulsanti Le leve Questo qua sarà compatibile Con Flight Simulator Quindi ogni pulsante Ci potremo segnare Delle funzioni Cioè Questo qua È un progetto In 3D Importante Non è il polipino La cazzatina Che stampi Ci credete che Tutti quanti I pezzi di questo progetto Anche il più grosso Che è Tutta sta parte qua Ci stanno Su questo piatto Tutti Perché ok Se vai a guardare Rispetto alle dimensioni Del piatto Di una Sidewinder Chiaro che questo qua È piccolissimo Ma poi Quando veramente Ti serve Il piatto Della Sidewinder Ragazzi Non vi serve Vi giuro Negli ultimi 365 giorni Di stampe 3D E io stampo abbastanza Magari c'è qualcuno Che è proprio nuovo Del canale Non mi conosce Io ho avuto Più di 30 40 stampanti 3D Probabilmente Siamo più verso i 40 Ci gioco Ci stampo Tutto quello che mi serve Un po' Me ne sbarazzo Le rivendo Comunque me ne passano Per le mani Sia di stampanti Sia di oggetti Da stampare Non ho mai avuto Bisogno di stampare Un oggetto Che non ci stesse Su questo piatto E in realtà Vi direi anche In tutta la mia vita Però non mi ricordo Cosa ho stampato In 3D In tutta la mia vita Quindi vabbè Diciamo nell'ultimo anno Sicuramente Per chi si sta approcciando Per la prima volta La stampa 3D Vi prometto Che non vi servirà Tiè Ci sta anche La maschera di Ironman Verdetto di questa recensione Allora Specificando ancora una volta Perché devo ripeterlo sempre Che nessuno mi sta pagando Per dirvi cose Dovrei segnalarlo Per legge italiana A me mandano Le stampanti 3D Ma mi hanno mandato Questa come mi hanno mandato Tutte le altre 40 Quindi per me di base Una stampante vale l'altra Finché non le testo Dopo averle testate Ovviamente Qualche stampante È molto più interessante Di qualcun'altra E questa FL Sound Q5 È tanta 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 roba Detto questo Fatemi sapere nei commenti Se tenere questa stampante E farci Una serie di video futuri Su eventuali migliorie Non so se Cambiare la scheda madre Oppure lasciare questa Un motivo per cambiarla Potrebbe essere di avere il wifi Ma visto che c'è spazio qua dentro Puoi cacciarci dentro un raspberry E avere il wifi comunque Magari cambiare il driver Magari cambiare il firmware Fare tutta una serie di piccole migliorie Ad esempio togliere Queste coperture qua Che non servono a niente Ma è tutto a peso in più Ecco Queste qua vi consiglio di toglierli Non servono a niente Anche qua hanno fatto Un bel bloccone di alluminio Carino Però se ristampato in plastica È più leggero E quindi la stampante Può muoversi più velocemente Ragazzi Con scheda madre stock Tutto l'hardware stock Cioè Come la stampante La trovate nella confezione Cambiando solo il firmware Ho visto su youtube Questa stampante Stampare a 200 mm al secondo 200 mm al secondo È tipo Tre volte più veloce Il massimo che può fare un Ender 3 Forse anche di più di tre volte E già di base Con il suo firmware nativo Stampa il doppio più veloce Di un Ender 3 Vabbè Potrei tenermela E farci degli upgrade nel tempo E magari mostrarvi due cose Cambiamo la ventolina Facciamo un po' di cose Voglio procurarmi a questo punto Anche le altre stampanti Della FL Sun Perché se lavorano così bene Mi aspetto che lo facciano Anche con gli altri modelli Quindi mi procurerò La Super Speed Qualcosa del genere Hanno una stampante Costa sui 460 euro Mi sembra È una stampantona grande Però voglio vedere Perché potrebbe essere Veramente La stampante dell'Apocalisse Ah ecco Una cosa in più Che ho fatto per questa Sta venendo un video lunghissimo Rispetto agli altri stampanti Del passato Per questa FL Sun Q5 È prendere Google E mettermi a cercare Tutti i problemi Che la gente ha avuto C'era quello classico Ah sì Mi senti alzato il filamento Vabbè Lo pulisci Probabilmente hai sbagliato Le temperature O hai preso un filamento Sporco Sfigato Non so Nel senso Non ho trovato Nessun problema Su internet Da dire Ah questa stampante Soffre di piatti Che si crepano sempre a metà Non ho trovato Nessun problema ricorrente Nessun problema Che avessero avuto Tanti utenti Sembra che sia A tutto tondo Un'ottima veramente stampante Tanta roba Per questo video è tutto Pollice in su Ciao a tutti In descrizione I link Ovviamente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti